Albergo Ristorante Sichi a Pian degli Ontani vicino alle piste di sci di Pian di Novello e della Betone Eccezionale offerta per bambini fino a 12 anni 1 euro al giorno trattamento di mezza pensione Speciale weekend a partire da 99 euro due notti con trattamento di mezza pensione Tutte le offerte sul sito albergosichi.com o telefonate al numero 0573 67 3015 La abbracciava sulle casse sulle casse di nitroglicerina Tornò Michel, tornò la vita in pallidi Il cuore suo tremò quattro copie di pistola ne sperò Maracalivo L'hotel Villa Patrizia situato in posizione panoramica su Cutigliano è un'antica villa del XIX secolo piccola oasi di pace e di tranquillità a soli 200 metri della partenza della funeria che in 6 minuti in inverno conduce gli sciatori alle piste Speciale promozione inverno e primavera con pernottamento e prima colazione a 29 euro a persona bambini e ragazzi fino a 14 anni gratis e da 15 anni in avanti sconto del 20% con aggiunta del terzo e quarto letto in camera tutte le offerte sul sito